Come va il commercio in piazzetta? Non bene. Perché? Perché un po' i vicini, un po' la gente con i motorini, un po' questo, un po' quello. È caduta la piazzetta, non è più quella di prima. C'è aria di crisi nelle storiche piazzette a Torre del Greco. La voce dei commercianti è unanime. Tra rincari e tasse la situazione è diventata ormai insostenibile. Quindi lei parla di crisi? La crisi è assaggerata. Ci hanno assegnato dei metragi che sono pochissimi. La gente vuole vedere, la roba è espossa. E le tasse sono sempre di più? Di più, non di meno. Quindi la gente spende meno? Non spende proprio, ma c'è. Tutti sono concordi nel registrare una minore affluenza dei consumatori? Non va bene, signora. Perché? Ha aumentato tutto. La gente non viene più come prima? No, non come prima. I commercianti ci hanno segnalato che ci sono dei problemi, che c'è un po' di crisi. E' un pochettino ci sta, purtroppo per tutti quanti. Voi come categoria che cosa chiedete all'amministrazione comunale? E' un po' più ordine in piazzetta, più controlli. Parcheggi, parcheggi. Parcheggi, la cosa fondamentale sono i parcheggi. Come va il commercio in piazzetta? Non va bene, perché stiamo mandando tutto. Ma l'affluenza della gente è diminuita, quali sono i problemi? Parcheggi, va tutto a carri, questo è tutto. Non vi demoralizzate, comprate tutta frutta fresca! La crisi c'è, come? Si sente, perché comunque i prodotti sono aumentati, le pensioni e gli stipendi sono sempre gli stessi. Perciò ci dobbiamo difendere. Perciò c'è persone che vengono da fuori, non sanno come arrivare qua, non ci sono posti auto. E' un po' come un caos generale. C'è ordine e sicurezza in piazzetta col passaggio dei motorini? Sì e no. Comunque le persone abitano in piazzetta e entrano con i motorini, perché come devono fare ad andare a casa? Perciò comunque i vigili ci sono, quasi tutti i giorni. E' un po' che ci sono quasi tutti i giorni. Alcuni esercenti sono talmente rassegnati e indignati da non voler nemmeno rilasciare interviste. Diverse le problematiche alla base del malcontento, tanto che la categoria sta pensando bene di organizzare una vera e propria manifestazione di protesta per far sentire la propria voce. Siamo rovinati. Perché? Lui devi con lui parlare. Dici col sorriso. Ma noi siamo sempre i più grandi venditori di ostri che frutti di mare. Ostri che frutti di mare e pesce fresco. Si pensa a qualche manifestazione di protesta per far sentire la propria voce? Noi. Ci vuole il popolo, non ci vuole il commerciante, ci vuole il popolo. Perché noi siamo per il popolo, è diverso. Male, 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 male. Perché? E la gente è poca. Si vede che... Non c'è più l'affluenza di un tempo. Non c'è più l'affluenza di un tempo, ma a parte che è cambiata la piazzetta. Prima non poteva camminare, adesso guarda. Ci dicevano che anche la chiusura della strada di Corso Umberto influisse negativamente anche su questo. Anche, anche. Ci è stata quasi più di un anno. Non ci possiamo lamentare. Siamo alle regole, siamo sulle strisce, grazie al sindaco, sta facendo cose buone alla grande.